La questione della migrazione è più credibile. La Commissione europea e i governi provano a girare la legge. Dei luoghi nei quali al momento dell'arrivo si dovrebbe in qualche maniera distinguere fra migranti buoni e migranti fattivi. Tra migranti irregolari e richiedenti asilo che è assolutamente illegittima. Questi sono alla fine dei centri di detenzione illegale. Sono frutto di un accordo mai mantenuto peraltro tra l'Unione europea e il nostro governo rispetto alla ricollocazione dei cittadini. Cittadini migranti nell'ottica di una distribuzione delle quote. Nel medio e lungo periodo questi luoghi diventeranno, come altri luoghi già inventati, dei momenti di permanenza coatta di molti cittadini migranti. Trattengono irregolarmente, anche per mesi, noi sappiamo, le persone all'interno e quindi di fatto si è tornati a quelle che una volta erano i centri di identificazione ed espulsione. Gli hotspot dove violano le regole nazionali e internazionali. Nel momento in cui alle persone viene dato, prima di essere informate, un foglio notizie, come lo chiamano, in cui le persone devono scrivere appena sbarcate, quando ancora non sanno neanche dove si trovano, non sanno neanche come funziona. Gli viene somministrato un questionario e sulla base delle risposte che queste persone danno a quel questionario viene deciso se devono andare tra gli irregolari o i richiedenti asilo. Sulla base non della storia individuale, che è ciò che prevedono tutte le convenzioni, nonché le leggi, ma della nazionalità di provenienza. La procedura asilo che sta scritta nelle leggi, cioè nelle direttive europee, che sono leggi in tutti e 28 paesi europei, prevede un'altra cosa. Prevede che alle persone vengano date le informazioni, che questi, sulla base delle informazioni che gli vengono date, possono chiedere asilo, decidere di chiedere asilo o meno, ma deve essere chiaro qual è la prospettiva che hanno davanti. Il compito dello sport è quello di distinguere chi può accedere a qualche forma di protezione internazionale dal migrante economico che come tale va rimpatriato. Il tema della raccolta delle impronte e dell'identificazione è un tema molto complesso. Nessuno dice che il rifiuto di molti a non fare prendere le impronte, quindi all'identificazione, è funzionale al fatto che ci sono dei processi migratori che in qualche modo si sono auspicati dai migranti stessi. Ciò non permetterebbe il processo migratorio messo in piedi perché poi sia nelle mani della comunità europea che ricolloca, a seconda delle disponibilità dei paesi, nei paesi più impensati. L'ultima è il Migration Compact di Renzi. Il modello dell'accordo Unione Europea-Turchia che in maniera esplicita da Matteo Renzi ha chiesto alla Commissione Europea e agli altri partner dell'Unione di utilizzare anche per gli altri paesi da cui hanno origine i flussi verso in particolare l'Italia e le promesse di aiuti allo sviluppo e anche di sostegno ai governi mi pare che non ci possano preoccupare di più. Perché se noi, l'Unione Europea, l'Italia verserà dei soldi nelle casse dei governi come quello dell'Eritrea, del Gambia, dell'Egitto, non farà altro che aumentare le ragioni per cui le persone fuggono. Beh, Sabir intanto ha il grande merito di tenere viva una rete euro-mediterranea per i diritti. Nella costruzione di quella che noi vorremmo chiamare la nuova carta dell'Europa, un po' quello che hanno fatto i padri dell'Europa con la carta di Ventotene, noi pensiamo che oggi ci sia bisogno di una carta del Mediterraneo. L'Europa è un continente con 500 milioni di persone, è un prodotto interno lordo, risorse, strumenti straordinari, anziché spendere i soldi per finanziare i governi dittatoriali dovrebbe spendere per salvare la vita delle persone.